Buonasera e bentrovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura la cronaca giudiziaria. La FIMER è stata dichiarata insolvente. La sentenza arriva da Milano. Vediamo. Dichiarata insolvente. Ennesima ammazzata per l'azienda valdarnese FIMER di Terra Nuova specializzata nella produzione di inverter fotovoltaici. Da Milano arriva la doccia fredda. Lo stato di insolvenza, di fatto, dà avvio all'amministrazione controllata. Saranno tre i commissari che verranno nominati e a cui sarà dato l'incarico di gestire la realtà produttiva e trovare una soluzione alla vertenza, che a questo punto riparte da capo. La FIMER si trova al centro di varie vicissitudini dal 2021, con numerosi colpi di scena che sono culminati nell'occupazione dello stabile da parte dei dipendenti. A giugno il passaggio della competenza per decidere sul suo futuro, dal Tribunale di Arezzo a quello di Milano, per uno spostamento della sede legale. È importante sottolineare che i piani, ora giudicati inammissibili, sono quelli presentati dagli ex amministratori dell'azienda, recita una nota del fondo Greibull Capita e McLaren. Il fondo continua la nota conserva la ferma convinzione che FIMER abbia di fronte a sé un futuro promettente, una volta che sarà in grado di distaccarsi con decisione del proprio passato. Le recenti evoluzioni sul piano legale possono offrire a FIMER la possibilità di un taglio netto e di un reale nuovo inizio. Abbiamo agito con ogni mezzo a nostra disposizione per supportare FIMER fino a ora, inclusi gli investimenti iniziali approvati dal Tribunale di Milano. Rimaniamo pienamente impegnati, continua la nota, in qualità di investitori e partner industriali nel garantire che FIMER raggiunga il suo pieno potenziale. Lavoreremo in stretta collaborazione con i dipendenti e con tutte le parti coinvolte, con l'obiettivo di conseguire insieme la soluzione più efficace a questa situazione. Camilla Bargomento, martedì 24 ottobre alla Prefettura di Arezzo sarà firmato il protocollo di intesa per la gestione degli interventi urgenti nei casi di episodi di aggressione e violenza nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, organizzazione delle procedure e dell'attivazione della rete territoriale. I firmatari sono la Prefettura, l'azienda USG Toscana Sud-Est, il Comune di Arezzo, l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Arezzo, l'Ordine delle Professioni Infermeristiche di Arezzo. Ancora un incidente nelle strade aretine, ieri pomeriggio a Monte San Savino un'auto e una moto si sono scontrati e il motociclista è rimasto seriamente ferito. Erano le 19.30 circa quando i mezzi dell'emergenza urgenza della ASL Toscana Sud-Est sono intervenuti in via aretina. Lo schianto è stato violento e il Centauro, un uomo di 38 anni, è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Le Scotte di Siena. Sul posto sono accorse un'ambulanza della Misericordia di Lucignano, un'automedica proveniente da Arezzo e le forze dell'Ordine. Ancora cronaca, doveva espiare una condanna per truffa in seguito ad una sentenza del Tribunale di Agrigento. Invece un trentenne è stato intercettato a Fogliano della Chiana dai carabinieri della locale stazione ed è stato arrestato. Doveva scontare una pena di due anni e un mese. Sempre i carabinieri della Val di Chiana hanno fermato due giovani mentre viaggiavano a bordo di un'auto. Il conducente risultato positivo all'alcol test, il passeggero invece aveva con sé tre dosi di cocaina. I due sono stati denunciati dai carabinieri di Monte San Savino. E ancora un altro ragazzo di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Cortona per droga. Durante un controllo su strada i militari dell'arma hanno trovato nella sua autovettura 5 grammi di cocaina. E torniamo ad Arezzo. Dopo il nostro servizio durante il quale abbiamo raccolto le preoccupazioni dei commercianti di Via Fiorentina in merito all'imminente chiusura di un tratto dell'arteria per il cantiere della Maxi Rotatoria oggi interviene sul tema anche la Conf Esercenti. Isolate via Fiorentina e via Marco Peregno dai lavori per la realizzazione della Maxi Rotatoria scelta che penalizza le attività economiche in un periodo di difficoltà, scrive l'Associazione di Categoria. I cantieri non possono penalizzare i negozi limitando accessibilità con l'evidente penalizzazione e il crollo delle vendite. Inaccettabile impedire la svolta del raccordo su Via Fiorentina e renderla una strada senza uscita per un mese tuona la direttrice Valeria Alvisi. Una soluzione che non condividiamo e per la quale credo ci sia la necessità di rivedere la scelta, dice appunto la Conf Esercenti. E a pochi giorni dall'avvio del progetto del carrello tricolore facciamo il punto con la Feder Consumatori Aretina. C'è chi propone una spesa con soli 20 euro e chi una scontistica per i prodotti a marchio. A pochi giorni dall'entrata in vigore del carrello tricolore la misura del governo Meloni per attenuare il peso dell'inflazione, il bilancio è a chiaroscuri. Il carrello tricolore è sostanzialmente la scelta delle grandi catene di distribuzione alimentare di ribassare alcuni prodotti per il trimestre anti-inflazione ottobre-novembre-dicembre. L'inflazione corre velocissima però servirebbero risposte strutturali non contingenti e strumenti tampone, anche perché questo è uno strumento che viene lasciato alla buona volontà della grande distribuzione del commercio, delle farmacie che hanno aderito con una buona rappresentanza. I produttori però non hanno aderito e nella maggior parte dei casi i ribassi, non troppo incisivi per la verità, riguardano solo i prodotti a marchio delle varie catene. Non abbiamo visto, almeno da una prima ricognizione, nessuna applicazione in quei marchi che non sono della grande distribuzione, quelli più noti, più utilizzati dai cittadini ad esempio. Quindi paradossalmente anche più costosi, no? E quindi di fatto che sono diventati più costosi, ma anche più utilizzati assolutamente, ma non hanno dato un'adesione esplicita e questo dispiace molto perché sono marchi italiane che portano alti il nome dell'italianità nel mondo, ma vorremmo che l'italianità non fosse solamente uno spot pubblicitario, ma fosse veramente un sentire comune. Feder Consumatori infatti non promuove appieno la misura. È una misura adesione volontaria, anche questo ovviamente lascia un pochino il tempo che trova, ovviamente è importante, sarebbero altri tipi invece di risposte. Pensiamo al taglio dell'IVA in tutta una serie di prodotti, ma siamo donne, è una disgrazia nascere donne, ragione per cui devo essere tassata al 22% mensilmente? Vogliamo riflettere anche su questo? Oppure le famose accise, perché non riusciamo ad abbattere le accise? Noi ho una vita come associazione dei consumatori, come Feder Consumatori, che chiediamo un abbattimento, una rimodulazione delle accise. Sappiamo quanto incidono in una famiglia di lavoratori, di piccoli imprenditori e come si rifletta poi nel costo finale del prodotto, il costo del trasporto su gomma, tantissimo. Noi abbiamo l'80% del trasporto merci su gomma, ragione per cui il costo enorme del carburante si riflette poi nel prodotto finale e poi viene scaricato completamente sui poveri consumatori. E adesso torniamo in Valdichiana, andiamo a Castiglion Fiorentino, dove sono in pieno svolgimento i lavori di riqualificazione e ristrutturazione dell'immobile ex Macelli. Nei mesi scorsi è partito il primo stralcio funzionale e l'amministrazione comunale ha già ottenuto un finanziamento che garantirà la realizzazione dell'intero progetto. La nuova sede sarà quella della Polizia Municipale insieme ad uno spazio culturale. I fondi arrivano attraverso il PNRR con cui il Comune ha ottenuto 1,7 milioni di euro che garantiranno la realizzazione dell'intero progetto. E i rubinetti della Valdichiana restano aperti nei campi. In un ottobre, dalle temperature estive con assenza di precipitazioni, le culture della vallata hanno sete e richiedono bagnature fuori stagioni. Le condutture rimarranno quindi in pressione e in funzione, oltre alla tradizionale conclusione della campagna irrigua, spiega l'ingegnere Lorella Marzillis, capo settore irrigazione del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. La situazione si ripete ormai da qualche anno e per il 2023 non ha fatto eccezione. E adesso passiamo alla pagina culturale. È stata presentata la stagione di prosa del Teatro Petrarca. Vediamo. Il Romeo e Giulietta firmato da Gigi Proietti, poi Stefano Massini, Andrea Pennacchi, il ritorno in città di Vanessa Incontrada, Alessio Boni e il nuovo balletto della Toscana. Parte così mercoledì 1 novembre la nuova stagione del Teatro Petrarca. Le scelte fatte quest'anno di questi nove spettacoli non hanno badato soltanto a cercare il grande mattatore che c'è. Ci sono attori e attrici importanti. Abbiamo lavorato anche proprio su andare a cercare le regie, a cercare anche gli autori. È un saper tessere insieme classico e nuova drammaturgia in una proposta articolata dove addirittura c'è anche la danza che trova spazio. Nove titoli per un totale di 16 appuntamenti nel cartellone. Al Petrarca alcuni tra gli spettacoli e nomi più interessanti della prosa e della danza nazionale. Proprio perché c'è bisogno in questo momento di andare a teatro per sorridere ma anche per riflettere e per pensare al nostro posto di uomini e donne naturalmente in questa società un po' caotica nella quale stiamo vivendo. Torna anche la stagione off dedicata alle nuove generazioni. Cinque gli appuntamenti in programma tra febbraio ed aprile al teatro Pietro Aretino. Con nuove drammaturgie e con spettacoli fatti da giovani per i giovani. Under 35, compagnia Under 35, presentano drammaturgie originali legate alla società giovanile. È una rassegna che si affianca a quella principale del Petrarca ma che ha una dignità importante e cercherà di avvicinare tutto il pubblico dai più giovani appunto al pubblico normale di tutte le stagioni. Un altro appuntamento a teatro si tratta di una commedia allegra e postmoderna. È quella al Teatro Virginian di Via De Redi ad Arezzo. L'appuntamento è sabato 14 ottobre alle 21 con la compagnia teatrale Il Capannone che metterà in scena allo spettacolo Il Piano che tra bizzarri personaggi e situazioni surreali accompagnerà gli spettatori all'interno delle contraddizioni di una città in precario equilibrio tra fantasia e realtà. E restiamo ad Arezzo perché torna in questo fine settimana l'appuntamento con la foto antiquaria. Vediamo il servizio. Arezzo ancora una volta capitale della fotografia vintage. Domenica 15 ottobre torna infatti Foto Antiquaria. La storica mostra mercato di fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche antiche che ormai da 37 anni è un appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti. Dalle 9 alle 18 le loggie vasari in Piazza Grande accoglieranno oltre 40 espositori provenienti da ogni parte d'Italia che daranno vita a una singolare fiera dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature sia analogiche che digitali usate o fuori produzione e ci si potrà muovere la ricerca di pezzi radi ed introvabili per arricchire la propria collezione o per riparare un'antica fotocamera. Non mancherà poi una sezione dedicata alla vendita di cartoline, libri e pubblicazioni varie di carattere fotografico. Nata nel 1986 e prima in Italia, Foto Antiquaria propone due appuntamenti annuali uno in primavera e uno a fine estate ed è visitata da migliaia di appassionati in cerca di occasioni uniche. Un corso per la formazione di amministratori di sostegno rivolto a tutte le aree di riferimento della ASL Toscana Sud-Est, l'iniziativa promossa dal Dipartimento dei Servizi Sociali in attuazione di quanto disposto dalla Regione Toscana che ha chiesto alle aziende sanitarie di realizzare specifiche attività per diffondere e consolidare questo istituto al fine di istituire e gestire elenchi di persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno. Dopo le precedenti edizioni, dal 6 novembre avrà inizio un nuovo corso dedicato a cittadini e professionisti delle province di Arezzo, Grosseto e Siena. Si terrà a distanza su piattaforme idonee. A condurre le lezioni sarà il personale interno della ASL Toscana Sud-Est e docenti esterni esperti in materia. C'è tempo fino al 26 di ottobre per iscriversi. E adesso parliamo della giostra del Saraceno perché c'è un nuovo allenatore a porta del foro dopo le divisioni di Enrico Giusti. Il nuovo preparatore è Enrico Vedovini. Sicuramente la caratteristica di Enrico Vedovini non è mai venuto a un piazza grande a fare le passeggiate. È sempre venuto a un piazza grande con la convinzione di poter vincere e sicuramente questa cosa qui la vorrà trasmettere anche a ragazzi perché a me non mi interessa solo far bene ma mi interessa vincere la lancia d'oro. Alle idee ben chiare Enrico Vedovini, nuovo preparatore di porta del foro. Non tornerà in piazza per fare da semplice comparsa ma farà di tutto per far tornare al successo il quartiere. Le voci sempre più insistenti adesso hanno trovato così conferma. La decisione è stata formalizzata ieri sera. Era una cosa che covava già da alcuni giorni con il rettore Felici che abbiamo portato avanti questa trattativa. Lui chiamandomi mi ha detto, mi ha dimostrato proprio che aveva veramente bisogno di una figura magari come potrei essere io. E ho accettato. L'ex giostratore di Porta Sant'Andrea ha disputato 40 giostre e vinto 12 lance d'oro tutte per il quartiere Bianco Verde. Un curriculum eccezionale il suo messo adesso a disposizione del quartiere di Porta del Foro. Cambiamento sicuramente va fatto sulla mentalità. Bisogna cambiare sicuramente cambiare marcia, cambiare passo. Non possono alternare giostre belle a giostre disastrose come l'ultima. e questo sarà quello che chiederò. Chiederò impegno, rispetto e molta serenità. Spetterà all'ex campione della piazza una volta arrivato alle scuderie di Petrognano decidere assieme alla dirigenza che ha coppiata mandare l'izza per la giostra di giugno. Il quartiere ha in mano una rosa di 4-5 giostratori chi più avanti chi meno li conosco un po' abbastanza tutti ora vediamo, iniziamo a lavorare e poi dopo tireremo fuori col passare del tempo i titolari che correranno la giostra su chi puntare, su chi meno sono molto indietro a livello di scuderie sono proprio all'albori e anche su quel piano lì cercherò di dare il mio supporto nel migliore dei modi per poter permettere a questi ragazzi di potersi allenare in un ambiente confortevole sereno e dove possano crescere bene. Adesso passiamo alla pagina sportiva sport, inclusione e sociale tornano ad unirsi al palazzetto del nuoto nella nuova stagione della cooperativa TMA Italia l'attività condotta da questa realtà nell'impianto cittadino è stata consolidata da una rinnovata organizzazione degli spazi in acqua da più fasce orarie e anche da un numero superiore di operatori formati per svolgere la terapia multisistemica rivolta alle persone con disturbi dello spettro autistico o disturbi dello sviluppo ponendo dunque le basi per un servizio maggiormente efficace ed efficiente una particolare sinergia tecnica è stata rinnovata anche con la chimera nuoto per un supporto fuori e dentro le vasche e la CF Arezzo comunica che ha accolto la richiesta della società Genoa Women di posticipare la gara Genoa Women a CF Arezzo in programma domenica 15 ottobre valevole per la quarta giornata di campionato la partita tra le Rosso Blu e le Amaranto vivrà il suo calcio d'inizio alle ore 16 e si svolgerà a Darenzano sul campo Nazario Gambino di Via del Mare e con questo è davvero tutto per la nostra informazione io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata arrivederci grazie a tutti 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 Grazie a tutti